Tutto ciò che si muove verrà, in ogni caso, portato a un arresto. Ma ciò che è immobile è per sempre. Nessun movimento nell'esistenza è perpetuo. Certe cose possono essere attive per tanto tempo, ma mai perpetue. Tutto ciò che si muove è destinato a esaurirsi. Ma ciò che è immobile è per sempre. Ciò che viene diffuso o ciò che viene definito meditazione è essenzialmente per muoversi verso quella immobilità, per diventare come il nucleo dell'esistenza. Non è che ti devi sforzare per diventare così. Se impari a penetrare, è così. Non è qualcosa che fai, perché fare è movimento. è qualcosa in cui ricavi, perché è da quella immobilità che il movimento ha avuto origine. È da quella immobilità che la superficie è movimento. In superficie ci sono molti tipi di azioni, molti tipi di colori, molti tipi di riverberi, non contro di ciò. Tutto ciò che chiami vita, tutto ciò che generalmente conosci come vita, è il riverbero in superficie. Ma una volta che hai il sapore dell'immobilità, se desideri, puoi giocare in superficie. altrimenti puoi semplicemente ricadere. Se non conosci il nucleo, se non hai mai assaporato il nucleo immobile, è per sempre in qualche tipo di movimento compulsivo. credimi. Non importa quanto eccitante tu trovi la tua vita adesso, un giorno ti stancherai. Spero che tu non ti stacchi dalla vita perché sei stanco, che ti stacchi dalla vita perché sei maturo. un frutto dovrebbe staccarsi dall'albero perché è maturo, non perché è stanco. Perché con la maturazione viene la dolcezza, con la maturazione viene la maturità, con la maturazione viene una nuova possibilità. se sei stanco se sei stanco e ti stacchi, non è questo il modo giusto di staccarsi dalla vita. Quindi, la meditazione non è un'opzione. la meditazione non è un'impresa stravagante nella propria vita. Se non sai come essere immobile, puoi solo essere malato. Non c'è altro modo. Potresti avere nomi diversi per la tua malattia. sai che nel diciassettesimo secolo era di moda in Inghilterra avere la tubercolosi. davvero. Allo stesso modo, ci sono molti altri disturbi oggi che sono di moda. Non importa quanto dolore e sofferenza provochi, eppure è ancora di moda. Ma questo non lo rende giusto. La scelta è solo questa. o impari a essere immobile o sarà in una qualche forma di malattia. Un uomo è malato solo perché non sa come essere immobile. Se sapesse come essere immobile, anche se il corpo sta marcendo, non sarà malato. quindi questa non è un'opzione stravagante che una persona prende. se uno ha... se uno osserva la vita e il processo della vita abbastanza da vicino, tuffarcisi più in profondità è un processo naturale. Toccarne il nucleo è un successo. se il fallimento è l'ideale della vita se il fallimento è moda meglio non sfilare in passerello non ne vale la pena perché ogni cosa qualsiasi cosa anche una piccola formica cerca di avere successo nella propria vita nella propria comprensione del successo. non esiste nessun essere umano che cerchi il fallimento uno ha successo solo quando trova piena espressione a tutto ciò che è e questo non accadrà mai e poi mai senza che uno diventi meditativo. quando dico meditativo non parlo necessariamente di un processo di meditazione organizzato e spiegato ma uno deve diventare meditativo altrimenti non conoscerà mai la natura della propria esistenza se non conosci nemmeno la natura di chi sei trovare piena espressione ad essa è semplicemente fuori questione.